Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraftita Sesta stagione e l'altro giorno non si sentiva un cazzo perché aveva montato il microfono Totalmente al contrario appunto sentivate il rumore infernale di tastiere mouse Perché impostato su modalità cardioide riprendeva soltanto quello che accadeva dall'altra parte dello schermo E non quello che dicessi io, cioè si sentiva anche quello che dicevo io per carità Ma molto più lentamente, molto più a frequenza più bassa e quindi con un volume molto molto più basso E si sentiva tutto il rumore infernale della tastiera quindi vi chiedo scusa perché il video non è venuto benissimo Però signori miei, che bisogna fare? Non ero frastornato dal viaggio e da tutto il resto Non ho pensato bene, cioè pensavo fosse sistemato bene invece devo essere sincero Mi avete detto che mi serviranno 15 librerie, non 10 per sistemare il tutto Cosa che alla fine mi interessa relativamente perché tanto abbiamo una quantità di libri che fa paura E quindi va bene, fotte sega, fotte sega, fotte sega Andiamo adesso in miniera perché dobbiamo cercare assolutamente, dico assolutamente diamanti Ce ne serviranno un paio soltanto Ah no, io ero andato, ok Il problema è il seguente Facciamo un attimo il punto della situazione e poi decido cosa fare Mi serve dell'ossidiana per creare, mi servono 4 pezzi di ossidiana per creare il coso L'enchanting table Il problema è che dovrei anche trovare un piccone in diamante Cioè dovrei fare anche un piccone in diamante per avere dell'ossidiana Oppure me ne torno nel nether, io ero andato alla fortezza del nether appunto Per tentare di riuscire a racimolare un po' di roba extra Quindi magari un qualche diamante o addirittura un po' d'ossidiana da mettere sotto Perché si trova nelle chest come looting Non so come loot, loot, no, looting, no, l'enchanting Comunque abbiamo 12 librerie, non è un problema farne altre Guardate possiamo fare subito i face of camera Adesso forse ce ne andiamo proprio nel nether a cercare Ricordo a tutti che questo nether è stato generato con la 1.10 Ergo ci sono tutti i nuovi blocchi della 1.10, del nether Oh c'è uno scheletro Quindi il magma block, l'altro blocco che si fa con le cose Come si chiama, la nether wart, il wart block Una roba del genere dovrebbe essere E attualmente non li ho trovati, li abbiamo trovati nella serie hardcore Però non sono il massimo da utilizzare per costruire, devo essere sincero Li proviamo ma non mi erano piaciuti tanto Non riescono neanche a fare troppo danno ai mob Quindi sistemi di difesa con quella roba non se ne possono fare granché Io sto girando da un po' di tempo, devo essere sincero Non ho ancora trovato cesto, almeno spero di non averle prese tutte Questo sarà fondamentale riuscire a trovare queste cose Perché se no mi devo chiudere in miniera tipo 2-3 ore E cazzo registrare per 2-3 ore una clip da 30 secondi Non è che proprio mi aggradi così tanto Però se questa è l'unica possibilità vorrà dire che la intraprenderemo Continua a cercare Ok abbiamo cambiato pressoché lava Prima siamo passati alla lava dell'inferno E questa è la lava del sottosuolo Mettiamola un po' così Dal nether al posto più easy da affrontare Forse non più easy però abbastanza tranquillo Dai cazzo non è così problematico come il nether Ecco se fosse capitato nel nether sarei morto Perché la lava nel nether ha la stessa velocità dell'acqua nell'overworld Quindi ok forse è abbastanza problematica la situazione Non ho torce il che non è proprio proprio il massimo Scaverò o continuerò a scavare finché non finisce il piccone Non trovo diamanti Ma ne dovrei trovare davvero tanti per smetterla Quindi penso probabilmente finirà il mio piccone prima Ragazzi ce l'abbiamo fatta Abbiamo trovato i diamanti Grande non so quanti saranno Se ci basteranno per fare l'enchant in tebolo Tutto il resto ma noi ci proviamo lo stesso Ok buono sono già due tre perfetto Quattro minimo Ok quattro Non ci dovrebbero essere più altri diamanti Questi non sembrano No ok Va bene quattro diamanti è quanto di meglio potevamo chiedere Meraviglioso Cioè proprio giusti Non ce ne avanza nessuno Però fotte sega non è che ce ne dovevano avanzare A noi servivano quattro per questo progetto E quattro ne abbiamo trovati Saliamo e torniamoci in superficie Ci vorrà un po' forse perché la strada che ho percorso è abbastanza Però fotte sega Il problema Ah sapete che mi servirebbe un po' di ferro Probabilmente mi fermo a minare anche io del ferro Finché davvero non finisce sto piccone Perché ne ho tipo nove pezzi Forse qualcosa di meno Quindi è problematico Dovremmo riuscire Sì lo so questa entrata non è il massimo Anzi fa veramente schifo Però piano piano si risale Allora purtroppo il nostro ferro è Sono dodici pezzi La nostra redstone Due Malissimo Male a tratti malissimo Vi giuro Pensavo di avere più redstone Speravo di avere più ferro Speravo di avere più tutto Volevo fare una sorta di Coso automatico Che significa cosa automatica Una roba del genere Guardate È easy Veramente molto semplice da costruire e craftare Mi servono anche questi Grazie Mi serve attualmente Un paio di stick Quindi uno due Mi serve Mi serve il legno cello Mi serve la stone La cobblestone La cobblestone 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 Eccola qua No questa no Ne avevo una quantità infinita di cobblestone Facciamo un paio di pistoncini Tipo una roba del genere Così E poi prendo questi Ce ne metto sopra Tac Tac Perfetto Due pistoni A cosa vi servono i due pistoni Per attivare e disattivare Le librerie In modo tale da poter fare una cosa eccessivamente tranquilla Tac Mi servono cinque diamanti Mi servono cinque cazzo di diamanti Porca miseria È vero Cinque Assolutamente sì Cinque diamanti mi servono È un disastro È veramente un disastro Me ne serve un altro Me ne devo tornare in miniera Eccoci qua Qui provvederemo a creare un po' d'ossidiana Ecco questa penso che la posso andare bene Un'altra qua Un'altra qua Perfetto Perché sta lava poi ci servirà Io voglio continuare a tenere sta lava È importante La lava serve È utile Per carità Adesso Giù d'ossidiana D'ossidiana recuperata Eccola qua Quattro pezzi Abbiamo Ci manca Un soltanto un diamante Ci manca un diamante Io adesso devo faticare 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 un sacco Perché che cosa devo fare Scusate se la webcam Attualmente fa schifo Non è che fa schifo la webcam Fa schifo la ripresa della webcam Per problemi di luce Perché Attualmente ho una luce soltanto Che viene Dalla vostra sinistra Quindi è Eccessivamente problematico Devo prendere dei faretti Da sparare E contro il muro Per fare un riflesso bianco Dato che la parete è bianca E una roba Sì esatto Mi servono dei faretti Vi giuro comprerò dei faretti Prima o poi Però Dato che Ne ho cercati alcuni Allora ci sono Alcuni che fanno schifo Vi giuro Ho trovato certi faretti Veramente Penosi Altri costano Tipo l'ira di dio Sono quelli Sono quelli di Cinematografici Una cosa Scandalosa E Sono indeciso Su cosa Comprarmi Attualmente Allora Posso tutte queste cose Me le vado in miniera Faccio tutto I miei bei giri E tutto il resto E ci prendiamo Finalmente Quello che È nostro Il giro mi sto portando dietro Una quantità di roba infinita Tutto quello che ho pensato Mi potesse servire Per questa spedizione E mi serviva anche un po' di pelle Devo uccidere questa mucca Che mi ha dato Un pezzo di pelle Quindi posso farmi un altro libro Quindi posso fare Tante 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 belle cose Ora Io penso di riscendere in miniera Andare a cercarmi Quello che Ho Necessità di trovare Dai massica Che cosa ho necessità di trovare Beh Il diamante Quindi devo scendere in profondità E parecchio anche Utilizzerò sempre La solita strada La stessa storia Stesso posto Stesso bar E andiamo a vedere E speriamo di trovare Di metterci poco Perché vi giuro È tanto che sto registrando Sto video E ancora non c'è stato verso Siamo stati nel nether Siamo stati A cercare Roba in miniera Abbiamo craftato Abbiamo costruito Adesso stiamo di nuovo in miniera Per cercare di craftare di nuovo E avere Fortuna Con gli enchant Insomma Un episodio abbastanza ricco No vi giuro Cazzo Per quanta roba Non che sia stato Un grandissimo progress Perché abbiamo fatto L'intaule L'incantamento Che come progress è buono Però Si poteva fare Si può fare sempre di meglio Assolutamente Però è stato un episodio Ricco, denso Concentrato Tazione Fenomenale Diciamo che la ricerca Non ha dato i risultati Sperati Redstone Quanto vi pare Ferro Zero E zero Diamanti Continuiamo Assolutamente E che dobbiamo fare ragazzi Per forza Non abbiamo altre possibilità Partiamo da qua Facciamo un'altra linea E via Dobbiamo fare Testivizze Nel sottosuolo Dobbiamo cercare Ricercare diamanti Ci serve Sto diamante Per forza Dobbiamo fare L'enchanting Finalmente Ci siamo riusciti Ecco qua Il tutto Il secondo diamante Tanta tanta roba Abbiamo trovato Dell'iron Purtroppo Purtroppo Guardate lì Che cosa è successo Un diamante Si è bruciato Si è bruciato Si è bruciato Un diamante Porca troia Guardate Non potete avere Non mi sono incazzato Perché mi è uscita la lava Io tipo Ho stolzato E fatto una finale Vabbè Purtroppo È andata così Ragazzuoli Che cosa andiamo a fare adesso Abbiamo tutti gli elementi Necessari Per tirar fuori Il meglio Dalla nostra Piattaforma Di incantamento Incantamento Ora Vado qua Dobbiamo fare alcune cose Vi faccio vedere Appena siamo su Pronti Per incantare Tac 2 E Il libro Ole Eccolo qua Enchanter Abbiamo sbloccato L'enchanter Perfetto Molto molto bene Ora Sti canetti Ci aiuteranno Come al solito A massacrare Attiviamo la farm Un attimo Tac Perfetto Uccidete i male cani Uccidete i male Vai Forza Bravissimo Allora Zona Incantamento Dove la mettiamo Io la metterei addirittura Qua dietro Con il tavolo Degli Incantamento Da un'altra parte Allora Il pavimento Il pavimento Voglio farlo diverso Adesso scaverò un po' Sicuramente E poi ci andiamo a fare sta roba Voglio farlo automatico Voglio fare tante tante belle cosine Quindi Ok va bene Il tavolo dell'incantamento E dai massimo Ce l'abbiamo Ho proprio finito Ho proprio finito adesso Di cuocere il ferro Sto mettendo a cuocere La cobblestone Per farle diventare stone Mi servono dei repeater Mi serve un sacco di roba Da poter utilizzare Qua sotto Come per finire appunto Sto posto Mi serviranno degli stone brick Mi serviranno Dei Dei cosi L'enchanting table La possiamo mettere Tranquillamente Qua Ma no La mettiamo qui È easy Poi qui inizieremo A mettere tutto intorno Dei pistoni Ma più precisamente Di qua Con dei Dei cosi Dei Dai su Dei repeater Puntati Verso sto coso Dobbiamo fare Le cose fatte per bene Avremo un modo Così In modo tale Da poter alzare E abbassare Le nostre librerie Quando ci pare piace In modo tale Da poter Tranquillamente scegliere A quanti livelli incantare Ragazzi Vi penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi rilasciano un mi piace Se vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se l'hai già fatto Di condividere il video Su facebook E per amici una persona Mi raccomando Passate in tutti i link Da iscrizione Facebook, Instagram E Telegram E ci vediamo come al solito A un prossimo video Con la linea del sole Che mi passa in mezzo Ciao a tutti ragazzi